Ciao a tutti, quando un uomo ti ignora, ecco cosa sta pensando. In questo video voglio insegnarti cosa passa nella testa quando un uomo ti ignora, non ti risponde al telefono, le chiamate, gli sms, in modo tale che tu possa organizzarti per riuscire a conquistarlo comunque, oppure fare altre scelte. Prima però ti chiedo di iscriverti al canale, ci tengo molto che tu ti iscrivi a questo canale, quindi se vedi questo video e ti piace, iscriviti al canale, attiva la campanella in modo tale che riceverai tutte le notifiche necessarie. E in più puoi seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, veniamo un attimino a quando un uomo ti ignora, ecco cosa sta pensando. La cosa è un po' controintuitiva, no? Perché normalmente... Cosa pensano le donne? Ma pensano di aver sbagliato qualcosa, pensano insomma alle cose più strane, che se è successo qualcosa, che magari non stia bene, e che magari abbia dei problemi, insomma, pensano tutte queste cose qua. Invece ci sono altre motivazioni. Intanto, cosa vuol dire ignorare? Beh, ignorare vuol dire che non è complementare, diciamo così, alle tue esigenze. Ignorare vuol dire che non si manifesta con te nel modo giusto, cioè non ti risponde alle telefonate, non ti risponde alle chiamate, non ti risponde alle videochiamate, agli sms, insomma, ma soprattutto non ti chiama neanche. Oppure potrebbe anche ignorarti rispondendo di tanto in tanto, ma in modo molto più limitato rispetto a quello che tu credi, che tu vorresti cercando di glissare, cercando di portare la tua attenzione, insomma, su altro e svicolando. Insomma, questo è un altro modo di ignorare, no? Allora, ci sono diverse motivazioni. La prima motivazione è che tu l'hai spaventato. Magari ingenuamente, senza gli hai detto che vorresti una relazione seria, che vorresti famiglia con figli, magari anche, e che vedi lui come il padre dei suoi futuri figli, che vedi lui come l'uomo della sua vita. E questo si è spaventato, giustamente. Perché tu gliel'hai detto quando non avevi abbastanza potenziale per il vincolo che gli hai messo, appunto. Quindi il ragionamento è molto semplice, è molto razionale, soprattutto lo fanno le persone iperlogiche, quindi questo ti dovrebbe dire che questa è una persona iperlogica. E qual è questo vincolo, questa considerazione logica che fa? Pensa che interagire con te gli dia più problemi che benefici. Perché magari ti ha visto come una sanguisuga che si aggrappa, che magari ti ha visto come una bisognosa, che magari ti ha visto come una rompiscatole, che magari eppure è stato con te, c'è stato, con te ha letto, e poi se ne però non gli interessavi più perché sei venuto fuori con queste cose. Quindi non sei stata seduttiva. Allora in questo caso cosa devi fare? Bene, anche qua non c'è nient'altro da fare, devi ignorare la tua volta. Cioè devi lasciare passare del tempo. In questi casi in cui sei spaventato così, devi lasciare passare molto tempo, almeno diciamo per resettare tutto, per essere sicuro qualche mese. Purtroppo questo è un errore grave fatto. Non bisogna mai dichiarare quello che si vuole, non bisogna mai dichiarare nulla praticamente. Cioè nella seduzione tu non devi dichiarare nulla. Più dichiari, peggio è. Purtroppo è così. Non spiace dirlo, ma è così. Quindi nel momento in cui lui si è spaventato, non c'è altro verso, deve passare del tempo. Deve resettarsi. Devi poi, dovrai casualmente, rientervenire, non andando più a toccare i tasti di vero, quel tasto lì, non andare a ritirarlo fuori, ma manifestarti in modo diverso, in modo molto più libertino, più trasgressivo, frequentando altri uomini, in modo tale che quel pensiero non emerga. L'altro eroe clamoroso sarebbe andare lì, e dire, vuoi che mi metti idea? Adesso non voglio più la famiglia, voglio solo divertirmi così. No, non devi dire niente. Devi mettere in atto delle azioni, e soprattutto devi mettere in atto degli antagonisti. Questo, ripeto, però, dopo aver fatto passare alcuni mesi, è necessario. Secondo motivo per cui ti ignora, è perché pensa che sei di poco valore, sei una donna di poco valore, una donna di basso livello, che schiocca le dita e tu arrivi. Questo lo matura, ogni volta che schiocca le dita, tu arrivi. E questo è il fatto. E lui ti cerca quando vuole, allora ti graderà sempre di più. Ti ignorerà sempre di più. Non sprecherà energie su di te. Perché devo sprecare energie anche a rispondere a un sms a una che tanto lascio passare un mese, le mando un sms, lei, tac, scodinzo, lei arriva, e fa quello che voglio io. Perché dovrei farlo? Non lo faccio. E infatti non lo faccio. Infatti non lo farà. Ecco, quindi, il secondo motivo è questo. Beh, e questo come lo distingui dal primo? Beh, lo distingui che ogni tanto ti chiama, non ti risponde, se ne frega, fa lo strafottente, ma ogni tanto ti chiama, soprattutto per servigi, diciamo così, di natura sessuale. E questo dobbiamo dirlo. Non ci sono altre motivazioni di fondo per cui ti cerca. E questo devi tenerlo presente che è così. E purtroppo qua, e anche qua, l'unica cosa che devi fare, c'è solo una cosa che puoi fare, è quando lui schiocca le dita, tu gli rispondi così. Non c'è altra soluzione. Devi prendere atto del fatto che sei stata fessa, ma che non vuoi essere più fessa. E non ci sono altre soluzioni, come dire, non ci sono altre possibilità. L'unica cosa che devi fare, l'unica cosa che puoi fare è quella. Non esistono altre. Se tu vuoi fare altre scelte, vuoi fare altre cose, sbaglierai. Quindi questa è l'unica strada. E poi c'è un terzo motivo molto importante che riguarda una sua tattica. Prima però di questo, per affrontare questo motivo, ti chiedo di, iscriverti al canale, ci tengo molto che tu ti iscrivi a questo canale, ci tengo veramente tanto, quindi iscriviti a questo canale, attiva la campanella, in modo tale che tu puoi ricevere tutte le notifiche dei nuovi video. inoltre, un'altra cosa, puoi seguirmi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E lascia nei commenti qua sotto, se sei stato ignorato da un uomo, come hai reagito, cosa hai fatto quando un uomo ti ha ignorato, insomma, lascia il tuo commento qua sotto, perché il tuo commento è importante, dà un contributo a tutta la community, quindi lascia pure un commento qua sotto. E veniamo al terzo punto, il terzo punto lo fa per tattica, ti ignora per tattica, questo è la cosa più positiva, perché vuol dire che lo fa perché ti vuole conquistare, ti vuole sedurre, è uno di quelli che magari ha visto i miei video, non lo so, magari lo fa perché tu te ne sei andata, ti sei allontanata, che ne so, non ti sei messo a complementare le sue esigenze, l'hai lasciato, l'hai fatto chissà qualcosa, insomma, e lui per tattica ti ignora. Beh, in questo caso lo scopri subito, perché se ti ignora, passati 21 giorni, un mese, così, si farà vivo lui. E questo lo capisci sicuramente se, lo capisci sicuramente se magari tu hai fatto qualcosa, ti sei allontanato, addirittura sei stata tu a lasciarlo, perché poi c'è anche questa possibilità, che sei stata tu a lasciarlo. E quindi allora sta facendo una sorta di no contact, o un silenzio stampa, comunque fatto per tattica. Il che è la situazione, diciamo, tutto sommato positiva, perché non devi fare niente, devi attendere semplicemente, e vedrai che si manifesterà, e allora dovrai imparare a giocare, a non accettare tutti i vincoli che ti metterà se hai seguito le lezioni, ad esempio, perché altrimenti resti impanata praticamente. Però puoi utilizzare delle strategie di questo, delle strategie utili, insomma. E ma adesso volevo dare un consiglio che vale un po' per tutte e tre le situazioni, su cosa fare. Allora, devi tenere presente una cosa fondamentale, e ci tengo che questo concetto ti entri bene nella testa, perché è un concetto basilare, un concetto importantissimo. Se non afferri questo, non afferri nulla, praticamente, e rischi veramente. Allora, il concetto fondamentale qual è? È che non devi concentrarti troppo sulla stessa persona. Se ti concentri troppo sulla stessa persona, non ottieni nessun risultato, non ottieni nessun beneficio, quindi evita di concentrarti, e quindi trova degli altri, interagisci con altre persone. Questo è fondamentale, ma vale in tutte le situazioni, anche se ti interessa questa persona, devi comunque avere il contatto con altre persone, ti dà possibilità diverse, ti dà modo di vedere la realtà più per quello che è, per come vorresti che fosse. Quindi questo è un punto fondamentale. Se non fai questo, rischierai di non avere poi la forza di mettere in atto le giuste strategie. Quindi trova anche altri e non concentrarti troppo sullo stesso. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, iscriviti al canale, mi raccomando, e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ciao a tutti!